Cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Prima di passare al nostro video, non dimenticare di iscriverti al nostro canale, mettere mi piace e condividere il nostro video per supportarci. Enjin Akyurek e Tuba Buyukustun, una delle coppie più popolari della televisione turca, stanno vivendo i ricordi più felici ed emozionanti della loro vita. La grande gioia e l'emozione che hanno provato quando hanno sentito le prime parole del loro bambino, nato l'anno scorso, hanno approfondito ancora di più il rapporto della coppia. Questo momento miracoloso in cui Enjin e Tuba sono diventati genitori si è trasformato in un'esperienza indimenticabile. Eravamo così entusiasti di vedere il nostro bambino iniziare a parlare. Mentre la famosa coppia attraversava questo processo, condivideva le sue intense emozioni con il mondo. La coppia Enjin e Tuba, che aspettavano con impazienza la prima parola del loro bambino, hanno finalmente vissuto questo momento meraviglioso. La prima parola del bambino è stata mamma. In quei momenti Tuba non riusciva a trattenere le lacrime ed Enjin era molto orgoglioso e felice. I suoi sentimenti aumentarono ancora di più quando Enjin pronunciò la seconda parola. Padre. Non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento. Sono stato molto felice quando Dotta ha detto mamma per la prima volta. Poi quando ha detto papà, dentro di me è scoppiata una tempesta. Enjin ha detto che se vivi momenti simili nella tua vita, sentirai quanto sei fortunato e ha detto che aveva difficoltà a esprimere l'intensa emozione che provava. Tuba Bujukustun ha anche detto di sentirsi molto onorata e felice perché la prima parola del suo bambino è stata mamma. Cari spettatori, continueremo a presentarvi i video speciali e le ultime novità di Enjin ha Chiurek e Tagba Bujukustun, continuate a guardare il nostro canale.